ok abbiamo un calzino fatto al bucato bagnato fradice e sto cercando di asciugarlo col condizionatore ma non ci riuscirò mai quindi si prende il calzino bagnato spiegali come l'avevi fatto la lavatrice a questo punto l'ho fatta utilizzando questo a guisa di cestello con questo e tappando tutto col coppettico non so dove è finito notate che siamo a Krasnodar 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 vuol dire rosso è tutto rosso quindi si mette dentro la roba si agita ci sono i vari programmi il lavaggio numero 1 il lavaggio numero 2 il lavaggio numero 3 e quindi questo è il risultato però un calzino bagnato allora l'antica saggezza si prende un phon si inserisce nell'albergo chissà quale watt è del calzino un altro trucco dice che quando si inizia a sentire puzza di pollo vuol dire che è il calzino asciutto un altro trucco dice che quando si inizia a sentire puzza di pollo vuol dire che è il calzino asciutto grazie 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 grazie